Ciao da Absim, questo è il giorno che ci appartiene, è il giorno che abbiamo conquistato, costruito, difendendo i valori del calcio, anche quando era impensabile farlo, impossibile farlo, anche quando venivi ostracizzato, demonizzato e screditato. E' il giorno della soddisfazione, della rivalsa, dell'entusiasmo, della rivincita, sì anche della rivincita, per tutti noi, perché abbiamo vinto tutti noi che abbiamo difeso il calcio e che di Gasperini abbiamo parlato in tempi non sospetti, e lo abbiamo stimato, elogiato e ammirato in tempi non sospetti, e ci siamo esposti e spesi per lui, per l'Atalanta, e di Atalanta abbiamo parlato in tempi non sospetti, ma anche di Bayer Leverkusen abbiamo parlato in tempi non sospetti, di Xabi Alonso, di Tiago Motta, di Bologna e anche del Girona, e anche del Girona, e abbiamo resistito e abbiamo contrapposto le nostre verità, le nostre convinzioni a chi ridacchiava, alle risatine dei mediocri. Questo è il nostro giorno, e io sono quasi esausto perché sono giorni, è una settimana, che ogni giorno è una soddisfazione, ogni giorno è una vittoria, ogni giorno è una celebrazione, ogni giorno è una rivincita ed è una dimostrazione. Ma quanti dovrebbero stare zitti oggi? Quanti stanno zitti? Almeno loro hanno la decenza, glielo riconosciamo. Quelli che non hanno mai avuto argomentazioni non riescono a tirarne fuori mezza questa volta, mezza. Poi c'è qualcuno invece che di argomentazioni tossiche ne ha tirate fuori tantissime, ma siccome una banderuola oggi sale sul carro, ma questo è veramente un carro. È un carro dove però non c'è più posto, non si può più salire, ci sta solo chi c'era prima di questa partita, solo chi c'è salito prima di ieri sera, e anche molto prima sta su questo carro. Gli altri, non avvicinatevi, non fa per voi. Chi diceva ma che ha vinto Gasperini? Chi diceva Gasperini non lo voglio perché non è un vincente? Chi diceva Gasperini non è da big. Chi diceva Gasperini alla fine fa questo calcio propositivo ma non riesce a combattere ai vertici, non riesce a dare alle sue squadre, alla sua Atalanta, i crismi della big appunto, della squadra che lotta per i trofei. E poi contano solo i trofei. Chi diceva conta alla fine solo vincere, solo chi sta nel palmarès, solo chi è vittorioso e alza la coppa, solo quello conta. E per farlo devi utilizzare mezzucci, mediocrità, palla alla bandierina, gioco speculativo, gioco di sofferenza tutti in difesa, tutti asserraiati dietro, basta vincere solo di poco, non c'è bisogno di meritare, con la bellezza non si vince, tutte queste persone dovrebbero stare zitte. E alcuni stanno zitti, ripeto, hanno la decenza e glielo riconosciamo. Ma anche Gasperini si toglie qualche sassolone dalle scarpe, con stile, con stile, con il sorriso, riconoscendo i meriti a Xabi Alonso, abbracciandolo e parlandogli, riconoscendo i meriti al Bayer Leverkusen, dicendo non avete, non si toglie nulla, non rimane nulla in meno rispetto a quello che hanno fatto. Perché Gasperini è consapevole di questo e aver perso delle finali e aver non vinto trofei per tutta la carriera, lo ha portato a questa consapevolezza, che però non è soggettiva, non è un'opinione, è fattuale, è verità. Quando con la medaglia d'oro al collo, invece di dire ecco, io sono questo, sono sempre stato questo, baciatemi i piedi e prostratevi, dice in questa stagione non abbiamo vinto solo noi o quelli che hanno vinto negli anni passati, ma per esempio ha vinto anche il Lecce, ha vinto anche il Verona, hanno vinto quelli che hanno raggiunto i loro obiettivi, perché altrimenti nel calcio siamo troppi perdenti. E allora dice una cosa sacrosanta, perché se il calcio è valori, non possiamo disseminare il calcio di perdenti celebrando solo quelli che entrano nell'albo d'oro. Vince chi raggiunge i propri obiettivi, ognuno vince in relazione ai propri obiettivi. E ha detto io non sono migliore di oggi pomeriggio, avevamo fatto comunque una cosa straordinaria da arrivare in finale. Il grande traguardo dell'Atalanta di questi anni è aver giocato grandi partite e tantissime partite. Chi può dire di aver fatto meglio dell'Atalanta secondo i propri parametri? Sono in pochi, sono veramente in pochi, al di là della Coppa. E questo vale anche per altri, magari per le big che non hanno vinto quando non hanno vinto le Coppe, vale anche per loro. Il problema è che non se lo attribuiscono perché qualcuno ha portato avanti una mentalità distruttiva, becera, mediocre, squallida, che ha intossicato il calcio. Questa è la vittoria solo di chi ci ha creduto veramente, ma di chi ci ha creduto e si è speso e ci ha messo la faccia quando si veniva subissati di insulti, quando si veniva aggrediti nei commenti, quando si veniva screditati da molti che adesso sono passati da quest'altra parte e si appropriano della vittoria dell'Atalanta. Questa è la vittoria contro le logiche della Superlega, che non è una questione se piace o non piace il torneo, è un altro discorso, ma contro le parole di Andrea Agnelli. E su questo Gasperini è stato molto esplicito ieri, che diceva anni fa che diritto ha l'Atalanta di entrare in Champions League non ha storia internazionale e sta andando tutto meravigliosamente male per queste persone, perché Gasperini ha vinto un trofeo europeo a differenza di qualcun altro, ha riportato l'Europa League in Italia dopo 25 anni a differenza di qualcun altro e di molti altri e Gasperini ha vinto anche lui, è diventato anche lui un vincente. Com'era quella storia che c'è un motivo se uno non vince mai? C'è anche un motivo se uno non vince più e se uno non ha vinto mai in Europa. E adesso aspettiamo con fiducia anche Vincenzo Italiano che possa iscriversi pure lui nell'albo d'oro dei vincitori di Coppe e di Coppe internazionali, visto che bisogna parlare lo stesso linguaggio dei mediocri per fargli capire qualcosa. A loro serve questa dimostrazione. Benissimo, questa vittoria rappresenta un ponte che va al di là, un ponte che unisce due mondi, il mondo del risultatismo mediocre, dei falliti frustrati e il mondo dei sereni entusiasti e pacificati giochisti, se possiamo dire così, ma semplicemente compatibili con i valori del calcio. Da una parte ci sono gli incompatibili e di qua i compatibili, noi siamo compatibili e lo siamo sempre stati, anche nelle difficoltà, anche quando era veramente difficilissimo se non impossibile perché sembrava che la realtà dicesse il contrario. Questo ponte serve a spiegare, a dimostrare, a sbattere in faccia a chi faceva chiacchiere, chiacchiere sui trofei e sugli albidoro che esiste la vittoria anche da quest'altra parte. Non esiste il bel gioco perdente, con bel gioco si vince, con la bellezza vinci, magari tirato ma comunque vinci e se vai a vedere chi ha vinto negli ultimi anni, ha vinto sempre, sempre chi comunque si è impegnato per giocare un certo calcio e si sta andando sempre di più quel certo calcio. E allora lo vedete che quell'altro mondo, quello degli incompatibili, sta sprofondando, stanno sprofondando. Isoliamoli e ignoriamoli, sbattiamogli semplicemente in faccia il risultato che è l'unica cosa che possono capire, l'unica cosa che conta, diceva qualcuno, motto distruttivo, motto distruttivo. L'unica cosa che conta è meritarselo, l'unica cosa che conta è metterci il massimo, è dare il massimo, è essere forti, è cercare di essere forti. Stoccata pesanti anche all'Inter da parte di Gasperini, non piacerà agli interisti, ma non vale solo per l'Inter e per gli interisti, vale anche per tutti gli altri, perché è un principio. Arrivare anche solo in finale, ha detto Gasperini, con i nostri conti, con i conti dell'Atalanta, era già un successone. Vincerla ancora di più, perché lo stiamo vedendo in questi giorni che di solito chi vince fa fatica a tenere i conti. Vincere con così pochi debiti è un valore aggiunto, benissimo. È come abbiamo vinto, dice Gasperini, non è solo che abbiamo vinto, è come abbiamo vinto. Ed è sempre stato così. Non è che cosa succede alla fine della partita, non è l'esito, non è il punteggio, ma è come vai a conquistarlo. È sempre stato questo il calcio, è sempre stato questo, dappertutto, dal Sud America al Nord Europa, è sempre stato questo. Qualcuno mediocre ha cercato per anni di piegare alla propria mediocrità le logiche del calcio, ma non ci siete riusciti, perché non potete cambiare l'anima, non potete capovolgere i valori, non ce la potete fare, non ce l'avete fatta. La realtà è ritornata su, è ritornata su e vi si è sbattuta in faccia e questa fa male, e questa fa male, e dispiace, ma vi avevamo avvisati, vi avevamo avvisati che non era quello che dicevate, ve l'avevamo detto, che non erano gli 1-0, che non era il vincere con il minor sforzo, massimo risultato col minimo sforzo, che non era il non essere più forti, che non era il giocare bene, che non era un problema giocare bene, che non era quindi il giocare male, il dover, veramente, il dover giocare male. Questo è stato sostenuto e quindi i significati di questa vittoria sono incredibili, sono inspiegabili, sono talmente difficili, talmente tanti, che è difficilissimo star qui a spiegare tutto, se non il concetto fondamentale, che non esiste neanche il giochismo. Il giochismo è una categoria inventata dai mediocri frustrati, che puntano soltanto sul risultato, perché si mettono sotto la coperta calda della Coppa, sotto la coperta calda dell'Albodore e del Palmares, perché non hanno altro, non hanno altro, qui invece c'è tutto, perché io ho una partita dominata così, ne ho viste pochissime, pochissime, al di là dell'Atalanta, del Bayer Leverkusen e del punteggio, è stata una partita di dominio assoluto, uomo su uomo a tutto campo, e quindi questo tra l'altro lo riconosce Xabi Alonso, un signore, anche il Bayer Leverkusen, che fa i complimenti all'Atalanta non per aver vinto, non solo per aver vinto, ma per essere stata la migliore nel campo, e Gasperini quando dice dà fastidio aver perso la Coppa Italia, ma non perché abbiamo perso la Coppa Italia, perché ci sta a perdere contro la Juventus, che è una grande squadra, ma perché noi non siamo riusciti ad esprimere il calcio che avremmo voluto, non siamo riusciti ad essere il meglio di noi, non siamo riusciti a dimostrarci forti in quella partita, e poi magari è stato anche uno stimolo, è stato anche un pungolo, per andare a tirare fuori il massimo una settimana successiva, una settimana dopo, e magari sarà così adesso anche per il Leverkusen, che potrà giocarsi la finale di Coppa tedesca, con lo stimolo di questa sconfitta, la prima dopo 50 partite o quelle che siano, e un Bayer Leverkusen quindi che fa i complimenti nel merito, Gasperini e Xabi Alonso che si riappacificano dopo la partita, e Gasperini che gli riconosce non viene meno niente di quello che avete fatto, però poi dice giustamente il percorso che abbiamo fatto fin qui già valeva più della Coppa, già valeva più della Coppa, aver battuto, aver affrontato e battuto squadre ai vertici dei loro campionati, compreso il Liverpool nel momento in cui l'Atalanta ad Anfield ha vinto 3-0, punteggio simbolico che evidentemente preconizzava qualcosa, significa aver fatto qualcosa di straordinario, e c'è ancora gente che dice che Gasperini e l'Atalanta non vincono lo Scudetto, non hanno vinto mai, solo quello era rimasto da dire, da anni, la vostra sconfitta era segnata nel tempo, era inevitabile, era inevitabile perché quando le argomentazioni per anni sono sempre e costantemente solo quelle legate a Palmares, Albodoro e Coppe, vuol dire che non avete altro, non avete mai avuto contenuti, questa è la vittoria della riaffermazione del calcio che abbiamo sempre difeso e quindi grazie veramente a tutti, grazie a chi mi ha sostenuto e che ci siamo sostenuti vicendevolmente in questi mesi e anni in cui era tossico parlare di calcio, in cui ti venivano a sbattere in faccia queste schifezze del Palmares e anche se adesso proprio il Palmares e proprio l'Albodoro va a sbattersi in faccia contro i sultatisti, non è perché hanno ragione loro, ma perché abbiamo sempre avuto ragione noi, perché proprio perché giochi bene, alla fine un trofeo lo vinci pure, se è il punto è il trofeo, però appunto Gasperini invece di rivendicare tutto questo e prendersi meriti, ringrazia il popolo di Bergamo, ringrazia la gente di Bergamo, senza piaggeria e senza falso buonismo e retorica, sinceramente, con un sorriso e con uno sguardo puliti e chiari, ringrazia la presidenza e la dirigenza, ringrazia i calciatori soprattutto che sono stati straordinari, un'Atalanta che arriva sette partite in 21 giorni, ogni tre giorni da tre settimane, ogni tre giorni da tre settimane, in realtà da mesi, in realtà da mesi arrivano a fine partita, arrivano a fine stagione, a fine torneo e alla fine di questa partita con un'energia in corpo incredibile, con un atletismo fenomenale, una partita giocata in maniera impeccabile, Xabi Alonso ha riconosciuto di aver commesso degli errori, dice poi la valuteremo, la analizzeremo, ma sicuramente ci sono stati degli errori anche miei, perché sapevamo quello che avrebbe fatto l'Atalanta, non abbiamo voluto snaturarci, ha detto Xabi Alonso, abbiamo voluto comunque giocare palla a terra nello stretto, ma non ha funzionato, abbiamo perso troppi duelli nell'uno contro uno del pressing dell'Atalanta e quindi sicuramente si doveva fare meglio e siamo dispiaciuti soprattutto per questo, a prescindere che l'Atalanta se lo sia meritato, a prescindere che l'Atalanta sia stata più forte e questo è stato riconosciuto dal Bayern Leverkusen, siete stati i migliori in campo, siete stati i migliori in tutto, l'ha detto anche Xabi Alonso, fa comunque male, anche Xabi Alonso avrebbe potuto dire sì ma io ho portato la Bundesliga a questo club, ho portato questo club in finale di Europa League che comunque è un risultato storico anche per il Bayern Leverkusen e siamo stati imbattuti per decine di partite, che volete di più? Non fa niente, si è perso una finale, capita, non ha detto così, non ha detto così e allora vedete che non conta vincere o perdere, conta avere i valori, conta come lo fai e come lo fai è indifferente poi dall'esito, perché se fai una cosa in un modo, quel modo ti appartiene per i valori, perché ci credi, per la voglia che ci metti, poi l'esito è chiaro che può capitare, perché questa brutta cosa dello sport è la competizione, la brutta cosa dello sport è la competizione paradossalmente, per cui alla fine vogliono sapere chi ha vinto e chi ha perso, sarebbe molto meglio far giocare le partite semplicemente apprezzando lo spettacolo e poi se vuoi dare un premio lo dai lo stesso a chi fa più gol magari, a chi fa un gol in più, ma alla fine dovrebbe anche rimanere un riconoscimento, se vogliamo anche come medaglia, come premio, oggettivo, perché comunque ha dato spettacolo alla gente, questa è la cosa fondamentale, sono andati in campo comunque a giocarsela, anche il Bayer Leverkusen, senza nascondersi nessuno, ed è così da mesi, è così da un anno intero, e sarà ancora così, continuate a tremare adesso che state tremando, continuate a preoccuparvi, continuate ad avere paura adesso che ne avete, perché avete finito con il calcio, avete finito, perché qui stiamo andando sempre meglio e andrà sempre così, perché Xabi Alonso l'anno prossimo sarà ancora allenatore del Bayer Leverkusen, e poi c'è De Zerbi che potrebbe addirittura andare in una big, si parla addirittura del Manchester United, e poi c'è il Bayern Monaco che prende le compagnie, altra scuola Guardiola, e il Chelsea che vorrebbe prendere Maresca, altro scuola Guardiola, e Guardiola che sta ancora lì, e poi ci sono tanti, c'è Tiago Motta, c'è la Juve che prende Tiago Motta, la Juve che prende Tiago Motta, la Roma che prende De Rossi mandando via Murigno, e poi tanti allenatori che stanno emergendo, che sono interessanti, che sono bravi, Farioli che è andato all'Ajax, tanti allenatori giovani che fanno quel tipo di calcio lì, stanno invadendo le squadre di calcio, le cosiddette big e le cosiddette non big, per fare spettacolo, dopo che cosa direte? Come continuerete ancora a far parte di questo mondo? Siete fuori da anni, siete fuori da anni, questa è la grande vittoria, Sassolini fuori dalle scarpe da parte di Gasperini e ci sta, ma rispetto non tanto a quello che lui ha subito, perché per quello che lui ha subito e Adani gliel'ha detto, tu sono anni che fai questo e nessuno te lo riconosceva, Gasperini avrebbe potuto vomitare veramente bile di risentimento e non l'ha fatto, e questo è il punto, Gasperini per gli addetti ai lavori, per gli addetti ai lavori, non aveva neanche bisogno, neanche da andarci in finale, perché Gasperini sono anni che viene copiato, che viene copiato dai big, Gasperini sta innovando il calcio ed è stato anche scritto e raccontato da chi ne capisce bene, da chi studia calcio quotidianamente, da chi fa questo e non va a fare chiacchiere in televisione o sui social spendendo un nome che non si sa neanche come se l'è fatto, Gasperini per il mondo del calcio non ne aveva bisogno ma ha voluto prendersi anche questo, perché? Perché a un certo punto se fai bene e fai ancora bene e fai ancora bene, la strada ti porta in finale e quando la strada ti porta in finale e tu sei abituato a fare bene, a lavorare bene, che fai? Lavori male per la finale? No, lavori bene anche per la finale, non ti metti con la paura addosso a dire aspetta un attimo, cerchiamo di non perdere, cerchiamo di non perdere, no, hanno cercato di vincere fin dal primo giorno, fin dal primo momento, fin dal primo minuto, fin dal primo attimo di questa partita e fino alla fine della partita, fino alla fine della partita, questo è fino alla fine, non è trovare un gol fortunato, fortunato, dov'è la fortuna ieri dell'Atalanta? Non è trovare un gol fortunato alla fine, ma è veramente fino alla fine, è per ogni minuto, non è solo alla fine, non è solo alla fine, potrei veramente dire tante altre cose lo sapete e lo sapete e grazie per chi mi ha seguito e continua a seguirmi vi ricordo che ho tre canali questo absim out e absim play su absim out video brevi con notizie sul calcio e approfondimenti invece statistici di calcio giocato oltre che cronache live delle partite su absim play faremo anche le nazionali faremo anche gli europei e la prossima stagione tantissime partite del calcio dei club sempre in diretta su absim play potrei veramente dire tante altre cose ma questo è quello che avevo in spirito di dover dire oggi questo 23 maggio data storica 22 maggio 2024 ed è una settimana che stiamo celebrando e festeggiando e ci stiamo prendendo soddisfazioni e rivincite ogni giorno sono quasi stanco sono quasi stanco di aver ragione sono quasi stanco di vincere quasi stanco ma in realtà no è solo l'inizio preparatevi perché il terreno sotto i piedi vi sta crollando perché state sprofondando tra un po non vi vedremo più anzi già non vi vediamo più quindi preparatevi a nascondervi a sparire da qualche parte a trovare rifugio dove volete ma sul carro non si sale più chi ha chi ha infangato il calcio chi ha provato a metterlo sotto i piedi chi lo ha mediocrizzato lo ha desertificato non ha spazio più non ha spazio più e da questo punto di vista visto che siete risultatisti e vi darà tanto fastidio avete perso hai perso avete perso e non vincerete mai più perché la vittoria ci appartiene perché la vittoria appartiene a chi ci mette i valori a chi è compatibile con i valori grazie per la vostra attenzione ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore grazie a tutti grazie a tutti Grazie.